Non c'è niente da fare, gigante e discesa libera in ambito femminile sono terreno di caccia italiano. Nel gigante con Marta Bassino e nella discesa con Sofia Goggia, entrambe vincitrici di 4 prove su 5 e quindi dominanti nella classifica di specialità delle due prove. Veramente incredibile questo inizio di stagione per l'Italia, soprattutto per Goggia e per Bassino, ma anche per Federico Pagnone che fa degli ottimi piazzamenti, per Elena Curtoni che quest'oggi sale sul podio in terza posizione, ma in generale una grandissima Italia con anche Laura Pirovano in quarta posizione e Federico Abrignone in nonna posizione, quindi ben 4 italiane in top 10. Veramente una grandissima prova di squadra e una prova spettacolare di Sofia Goggia che dopo la vittoria di ieri conquista anche la seconda discesa libera di Kral Montanà. Buon pomeriggio a tutti amici appassioni di sport e ben ritrovati su Molina Rina Sport Channel Io sono il senso, sono qui per parlarvi appunto la discesa libera femminile di Kral Montanà in Svizzera per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Scialpino 2020-2021. Si parte appunto con un'ottima prova di Federico Abrignone, non benissimo al lancio e nel tratto di scorrimento, ma per il resto nelle curve è andata molto forte. Negli altri due tratti appunto nel tratto di scorrimento e all'inizio invece hanno guadagnato un po' quasi tutte su Federico Abrignone. Prova strepitosa invece di Sofia Goggia, nulla da dire, veramente una prova spettacolare, forse anche più bella di quella di ieri. Non si può ben scegliere tra le discese di Sofia Goggia che ne conquista 4 su 5 e appunto le ultime 4 discese sono andate sempre alla Bergamasca. Diverse uscite, quella di Helen e quella di Ledeska, e lì le ultime due sono cadute, soprattutto la caduta di Ledeska è stata molto scenografica, diciamo molto brutta come caduta, ma per fortuna non si è fatta praticamente nulla. All'inizio aveva un dolore al braccio, ma poi alla fine è scesa sugli sci, sembrava appunto che non ci sia nulla di grave, comunque molto premente avevano fatta una radiografia per capire se il dolore al braccio è dovuto a una frattura, quindi se domani potrà ripartire nella sua specialità preferita, ovvero il supergigante, sempre ovviamente a Cramontana. Ottima prova di Lara Goodberami che recupera soprattutto nel finale rispetto a Sofia Goggia e va a chiudere in seconda posizione a 27 centesimi dalla Bergamasca. Buona prova anche di Brady Johnson, seppur non priva di errori e di rischi, tant'è che all'arrivo ha fatto, come di dire, ho portato a casa la pelle, perché ha fatto veramente dei rischi di uscita clamorosi. Splendida gara appunto di Elena Curtoni, soprattutto nella prima fase, nella prima parte, dove va a perdere praticamente tre decimi, perde tutto praticamente nel finale, dove ne perde altri tre, quindi metà del suo svantaggio deriva dall'ultimissimo settore, quindi un po' un peccato perché sarebbe potuta essere anche davanti a Lara Good e fare una doppietta italiana, ma comunque un'ottima prestazione, una grandissima prestazione per Elena Curtoni, che chiuse in terza posizione a 60 centesimi. Poi una prova spettacolare anche di Laura Pirovano, la giovane trentina chiude in quarta posizione a 82 centesimi, recuperando nel finale rispetto a Sofia Goggia, va a perdere gradualmente nella prima parte, ma poi nel finale è veramente strepitosa, una delle migliori e va a chiudere in quarta posizione. Brizzi-Jonasson appunto quinta a 89 centesimi, poi Jasmina Suter, anche lei una grandissima prova per l'Elvetica, che chiude a 91 centesimi in stessa posizione, ottima prova anche per la leader di Coppa del Mondo, ormai quasi indiscussa, Petra Vlova, la Slovacca, che chiude settima a 1 minuto e 05, segue con il Suter a 1,10, Federico Abrignoni a 1,26, Michel Ghisin a 1,32, tredicesima Nadia De Lago, appunto sono 13 i poli italiani, sono 8 le vittorie italiane, derivanti 4 da Marta Bassino e 4 da Sofia Goggia, veramente un inizio di stagione strapitoso per l'Italia, ma Petra Vlova sta dimostrando di essere veramente, veramente fortissima, perché oltre alle sue discipline tecniche sta riuscendo a fare risultati clamorosi in supergigante, ma addirittura indiscisa libera, ieri quarta e quest'oggi settima, veramente una Petra Vlova dominante in questa stagione, una Petra Vlova Michaela Schifrin style, diciamo non così dominante come la Schifrin dei Tempi d'Oro, di due o tre anni fa, ma comunque una grandissima prestazione, comunque Michaela Schifrin, che dubito questa stagione possa insediare la Slovacca, anche se comunque sta dimostrando di essere in crescita, ma sicuramente l'anno prossimo tornerà quella che era due anni fa, per quanto mi riguarda. Comunque ragazzi, direi che per questo video di tutti i video, ci raccomando un piaccio iscrivervi, seguireci anche sulla nostra pagina, e noi ci vediamo a un prossimo video.